yuki a tutti duellanti ben ritrovati sul canale oggi ovviamente come promesso siamo qui con l'opening di animation chronicle 2022 ovviamente eccolo e diciamo come prodottino non è assolutamente male perché ho visto che all'interno c'è un drago bianco chi blu prisma che su car market si vende sui 400 euro ovviamente non costa così tanto questo è dovuto perché ce ne stanno pochi sul market ma sicuramente non ve lo regalano ovviamente ragazzi però prima iniziare vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da jack store il mio sponsor per l'acquisto di prodotto coreano trovate il link del loro store e il mio codice sconto qua sotto in descrizione inoltre se volete liberarvi di carte di yuki magic pokemon dragon ball one piece forza will e digimon trovate il link del mio instagram qua sotto in descrizione contattatemi mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare detto questo adesso andiamo un attimo a vedere cosa possiamo trovare allora attualmente le cartine più interessanti sono ovviamente questo drago bianco chi blu che porca droga sarebbe molto bellino da sbustare poi vabbè abbiamo le varie collector ovviamente c'è quella che costa di più quella che costa di meno quelle costano di più ovviamente sono i best cristallo quelli che si giocano e poi vorrei vedere se c'è anche mio padre perché suo zio c'è però eccolo solo parallel non me l'hanno fatto collector sono molto deluso niente non si apre più il prodotto ragazzi addio detto questo io adesso andrei a spacchettare allora andiamo l'opening e speriamo di sbustare col drago dai che sarebbe veramente un colpaccio veramente grosso ovviamente quasi tutte le carte che stanno all'interno di questo set le abbiamo già viste perché effettivamente diciamo il loro animation chronicle è il nostro battle of legend quindi nel pratico l'unica cosa a cui puntiamo è una ma vabbè adesso staremo a vedere se ci va di culo anche a questo giro perché diciamo il mese scorso non mi ha andato assolutamente male con la maga nera e non credo abbia un pull rate così garantito comunque credo di aver trovato la collector allora abbiamo la tigretto pazzo avanzata con ange questa mi sa che non è mai arrivata da noi questa neanche no non era la collector altra carta che non credo sia mai arrivata da noi prossimo pack comunque ragazzi forse per me li aprirei tutti in 0.3 secondi che vorrei vedere se ho sbustato il drago un attimo voglio prendermela con calma perché altrimenti qua per fare un video dovrei prendere tipo 15 di box allora vediamo abbiamo i supporti amazon e questi non sono per nulla male poi abbiamo melalink carta gigolem che attualmente è un po richiesta un po non troppo di la gioca poi penso sia un altro gigolem a questo punto considerando il kanji e la g poi magia è la super poi magia campione eroico credo perché lui è vestito da gladiatore allora dai per adesso almeno non abbiamo già tirato fuori la carta costosa almeno la collector non dico tanto ma vorrei il pegaso o anche lo zio del di mio padre nel senso il tirannosaurus rex allora comunque ragazzi questa carta cita un gioco creato da yuk devlin che yuki gioca all'interno dell'anime poi non so se sta pure nel manga però è molto bello allora uno shark un pendolo mio padre il tirannosauro e e come ultra mamma mia mamma mia me cascano le braccia gigole già che le ultra sono tipo tre o quattro almeno dammele decenti tanto non costano un cazzo firmi ragazzi una cosa importantissima se volete supportare questo canale vi basta solamente iscrivervi mettere mi piace e commentare a voi questa cosa non cambia niente ma mi da un enorme supporto perché mi permette di far arrivare questi video a tutta la community soprattutto se voglio itale entro fine anno i 5k è difficilissimo ma ce la possiamo fare grazie mille a chi lo farà abbiamo altro gigolem cazzo non me lo sarei mai aspettato allora gigolem carta tiro contro nosauro una bomba mamma mia che tette che c'ha allora andiamo avanti andiamo col prossimo pack e vediamo abbiamo un supporto hero questo qui era shuffle qualcosa che non è assolutamente male poi abbiamo aquila cobaldo avanzata carta inutile carta totalmente inutile e zanzara numero 2 che è questa me l'hanno tirata i sprite ci stavo a perde e diciamo che me la son procurata anche per me non la gioco non posso giocarla perché un x is 2 però nel senso nel dubbio almeno ce l'ho prossimo pack abbiamo penso sempre dell'archetipo zanzare almeno l'abbiamo sbustato poi cose un giocattolo sigreto pazio e non ne ho idea di qualcosa allora vediamo un attimo quanti me ne mancano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 quindi nel pratico ho ancora tutte le foil qua dentro ho beccato due super non so quelle la roba foil che voglio adesso farebbe rire che non c'è la collector tipo sbrocco male dovrebbe essere un x is questo quindi non è il drago bianco abbiamo questo inutile questo inutile poker d'assi vabbè uno squalo e il terreno dove il duke devlin e yuki hanno giocato a quel da dice monsters è come si chiamava sempre sul pezzo allora prossimo pack vediamo dai su io sto sicuro che se c'è il drago bianco lo sminto allora abbiamo tartaruga smeraldo poker d'assi la zanzara cose a caso e l'aquila cobaldo cobaldo perché apparente di balto versione sbrillucicosa a quadri andiamo con il prossimo io mi chiedo il pool rate di quel drago quant'è perché rispetto al anno per un secondo creduto veramente di poter sbustare una carta decente rischio di cristallo e questo mi stavo dicendo mi chiedo quanto è il pool rate perché le carte costose rispetto che da noi sono molto più facili da trovare tipo la prisma noi è una ogni 24 box da loro non è così perché io ho aperto due box giapponesi ho trovato due prisma però quelli erano set standard questo è un set diciamo secondario quindi può essere che quel drago bianco non esca mai niente ma ormai mi sono reso guarda l'unica soddisfazione almeno trovare la collector che dovrebbe essere garantita una collector bella non una collector del merda abbiamo il soldato d'inverno altra carta coi disegnini un cane è un carlino lo regalerò valerio che adora i carlini e uh bella almeno un ultra decente cazzo quello che mi preoccupa è che essendo uscita l'ultra pegaso non credo mi uscirà pure collector però molto bellina allora prossimo pack andiamo a vedere allora abbiamo un giocatore di baseball una mazzone molto carina link mela e cazzo sto palo di merda ho pagato 6 euro luna non si gioca però è molto bellina da giocare in qualsiasi mazzo macchina perché se giochi un cyber drago puoi beccare tutti i mostri dell'avversario per fare il coso enorme da tipo 6000 punti d'attacco e non è male perché passi sopra a tante negazioni andiamo col prossimo abbiamo un pendolo il tirannosauro carta gigolem carta inutile e melalink ultimi due ho perso le speranze ovviamente anche per la collector e vediamo abbiamo cose a caso una bomba esplosiva carta hero carta inutile oh grazie a dio l'abbiamo chiamata almeno è uscita la collector che è lo zio suo dai dai su almeno grazie 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 visto che tanto lo stego non me l'avete fatto collector qualche modo dovevate assolutamente scusarvi mi sembra al minimo allora apriamo oh vabbè spoiler non c'è niente onesto però almeno almeno lo stego sauro ce lo siamo portati a casa e va bene ragazzi il video finisce qua diciamo che nel pratico ci poteva andare meglio nel senso potevamo sbustare il drago piano però lo stego collector mi sembra già un ottimo pull detto questo ragazzi vi rinnovo ovviamente vi invito a iscriverti e noi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video ciao a tutti